Nuovo intervento in via da Negri a Lodi dopo il crollo di una pianta ad alto fusto. Una ditta specializzata nel settore ha provveduto a rimuovere i rami dell'altra pianta sulla quale si era adagiata la prima. Alcuni di questi erano in pessime condizioni e sarebbero potuti crollare in condizioni atmosferiche avverse. A seguire i lavori l'assessore Alberto Tarchini assieme ai tecnici comunali. L'albero oggetto dell'intervento è stato letteralmente spogliato in attesa di provvedere alla completa rimozione mentre i rami sono stati accatastati nelle aiuole della zona assieme agli altri dell'albero crollato. Resta ancora al suo posto una pianta ad alto fusto che svetta oltre i tetti degli edifici della zona. Intanto completato l'intervento è stata ripristinata la viabilità ordinaria in via Adanegri chiusa al traffico per consentire i lavori in totale sicurezza per gli operatori. Resta aperto il problema delle robini e pianta infestante cresciute a dismisura in via Fleming lungo quella che una volta è riconosciuto come il campo delle baste. Proprio nelle scorse settimane un grosso ramo si era staccato dal tronco di un albero rovinando sulla campana per la raccolta del vetro. Il rischio è che possa ancora accadere questa volta sui veicoli in transito lungo via Fleming.